Un piano regolatore del sottosuolo che consentirà provviste fiscali per i comuni, lavoro per giovani funzionari della PNRR, il piano nazionale ripresa e resilienza, soluzioni per i lavoratori interinali dei call center IMSS dell'Aquila, permessi retribuiti per i consiglieri comunali che si assentano dai posti di lavoro per partecipare alle riunioni in vista della fusione dei comuni di Pescara, Montesilvano e Spoltore per la nascita della nuova Pescara. Sono le norme approvate con il decreto legislativo aiuti bis che avranno ricadute positive sull'Abruzzo, ha detto oggi a Pescara il senatore Luciano D'Alfonso, presidente della Commissione Finanze e Tesoro del Senato, evidenziando le rilevanti e specifiche ricadute per il territorio abruzzese. Sul superbonus intanto è nata una polemica tra Movimento 5 Stelle e Lega. I pentastellati accusano gli esponenti del carroccio di provare a intestarsi un risultato ottenuto dal Movimento. I consiglieri regionali del Movimento 5 Stelle, in merito alle dichiarazioni dei leghisti abruzzesi sullo sblocco degli emendamenti relativi al superbonus ottenuto in Senato, hanno detto che se la scorsa settimana i nostri in Commissione non si fossero opposti alla richiesta del Ministero dell'Economia e delle Finanze e di ritirare tutti gli emendamenti al decreto legislativo aiuti bis, oggi non avremmo la riformulazione dell'emendamento Movimento 5 Stelle che cancella la cosiddetta responsabilità solidale dei cessionari dei crediti d'imposta. Secondo la Lega Abruzzo le imprese sono state salvate grazie alla mediazione di Salvini che ha consentito di sbloccare i crediti e ora la priorità sarà il contrasto al caro bollette, il lavoro per flat tax, riforma del fisco e delle pensioni.